oggi ci sarà finalmente l'evento che vi avevo promesso alla maratona il fatto di vestirmi da banana e buttare via ogni minimo di briciolo di dignità che mi sia rimasto adesso sei in mezzo girati olè una banana a capodorlata sono una banana io non riprendo che sarà tanto che non ne vede una mi guardano tutti io ho intenzione di nascondermi così faccio la banana moscia no c'è gente che non voglio incontrare che figure che faccio oggi mi nascondo mi nascondo stiamo vedendo una scommessa con quelli che mi seguono su twitch capito meno male che ha coinciso mezzo con carnevale allora vi faccio vedere anche posso far vedere spider-man vero vi faccio vedere spider-man saluta spider-man e poi mercoledì che si nasconde se lo guardano male perché non sono in grado di divertirsi se lo guardano male perché non sono in grado di divertirsi se lo guardano male perché non sono in grado di divertirsi almeno Diziano mi viene la manina così non sembro pazzo la banana accompagnata lei sembra un maestro in caposata ma chi vuoi galore mintiamo ma chi vuoi ma tu appunto perché hai 60 anni e chi cazzo vuoi mi e quindi fatti cazzito fatti cazzito è uno pazzo no ma io mi sono girato dai miei colleghi uno pazzo che bello che magari pensano che li riprendo ma io non sto riprendendo nessuno mi arrivano corriendovi da tutti i lati c'è lui che corrono da me quelli coriani lui è un banano aspetta che direte le malattie c'è lui che mi ha messo aspetta ecco che siamo belli si era disconnesso un attimo scusate ho tutti i bambini che mi lanciano corriendo da tutti i lati ciao ciao Flavio si però mi dovrei prendere da qua senza riprendere riprendendo meno bambini possibile ma posso andare a chi devo chiedere a chi devo chiedere a chi devo chiedere Vini sorrini la mia mercoledì poi qua allora spiegami bene il tuo vestito sei Alice che Alice che Alice nel paese è le meraviglie giusto il coniglietto bacino bravissimo ma Nando ma lo puoi fare andare avanti vedi puoi camminare vai 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 ma che c***o ecco adesso è veramente al centro dell'attenzione raga davvero davvero adesso si è superato sincero oddio ma cosa stanno facendo banana vieni qua vieni qua aspetta giriamo e ritiamo di riprendere guarda cosa ho scritto non pensavo di vedere mai nella mia vita una banana in bici sincero pensavi di vedertela in go banana banana di razza non è il banana gio ciao Rosario eh niente siamo qua la star della sera ovviamente chiunque riprendo lo chiedo anche per correttezza anche se vengono questi gran cazzi comunque ho trovato una panchina libera io potrei sedere un attimo noi siamo là sediamoci cinque minuti oh slide no mi hanno rubato la panchina basta mi hanno rubato la panchina mi sto anche riprendendo quindi non ti preoccupare e poi c'è poi c'è lei e poi c'è lei guarda ecco vedete che la casetta l'hanno trasferita sono belle e dobbiamo divertirci sì anche se lei mi guarda male come no mi guarda malissimo mi guarda malissimo è una banana è quello che piace la banana e la banana vai 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 dire i bambini guarda guarda mamma una banana sì sì ma pure le persone grandi però lo stanno facendo ragazzi pure le persone grandi le voglio le orecchie che fanno c'è gli spegni spegni e accendi ragazzi votate se volete vedere a Nando dietro un carro che fa votate Nando presidente della repubblica la banana in parlamentare tanto se ne siete più di prenderla in culo tutto il giorno dai politici almeno la metto in culo io che su c'è una bella banana Nando for president a fine giornata voglio un premio vi prometto più banane per tutti se riesco a non dire nessuna parola pannabile se il premio sarà tornare viva a casa applausi e prossimo a TH a GOD Grazie.